Il partito è un partito di cambiamento, un partito onesto, l'unico partito che prende i suoi parlamentari e li mette alla porta se si accorge che sono disonestati. L'unico partito, tutti i primi, noi sappiamo di avere questa caratteristica, uomini onesti e dovunque, a nord, a sud, dovunque, gli uomini onesti, non essere d'accordo, ma uomini di parola in un mondo di farabutti ed è questa la vera accezione della legge, fatto vedo che non mantengono i molti, gli uomini non mantengono le parole, non vuole più il giuramento. L'onorevole Umberto Bossi. L'onorevole Umberto Bossi, il leader historico della Liga del Nord, il pratici serment la Costituzione, appresavore la guerra, proné la secessione del nord dell'Italia. Che è un uomo, vale quanto vale la sua parola! No, no, assolutamente. No. Ma fanno bene, Rubò? Assolutamente no. No. No, no, assolutamente no, assolutamente no. Penso di no. 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 Iguale, siamo lo stesso di bene. No. No, mai. No. Assolutamente no. Assolutamente no. No, se gli dai ben cacciobocchi è meglio. Per me no, assolutamente no. Un ladro. Non ho seguito le vicende politiche, sinceramente. Non saprei, pure che ti dico sbaglio. Un bau di un ammazzano. No. Assolutamente no. No. No, va ammazzato al muro. No. Né Bossi né Berlusca. No, assolutamente no. Beh, se lo facesse farebbe una gran bella figura. No, assolutamente, si deve dimettere. No, lui e tanti altri li devono andare via. Ma insomma. Grazie. Tante cose non sono giuste. No, certo. Dica solo lui. Il mondo di farabutti.